In questo video vediamo i 5 migliori ventilatori a piantana in vendita online. Prima di iniziare con il video ti ricordo che trovi tutti i link ad Amazon sotto al video in descrizione o nel primo commento. Iniziamo! Numero 5 Al quinto posto troviamo TriStar. Questo ventilatore a piantana poggia stabilmente su qualsiasi superficie, grazie alla base extra large con piedini antiscivolo. Può oscillare di 85 gradi raffreddando l'aria in un'area ampia. L'altezza è facile da regolare 80 cm per direzionare il flusso d'aria con la massima precisione. È facile da usare grazie alla manopola presente sul retro. Scegli tra le tre regolazioni disponibili il flusso dell'aria che preferisci per te e per e per l'ambiente circostante. Il solido telaio in metallo rende questo ventilatore davvero resistente e robusto. Il telaio in metallo color argento lo rende adatto a qualsiasi tipo di arredamento, soprattutto per moderno. Il prezzo è di 61 euro. Numero 4 Al quarto posto troviamo Cekotec. La ventola di questo ventilatore raffredda rapidamente l'ambiente grazie al suo ampio flusso di aria fresca con la massima silenziosità e comfort. Così puoi riposare, lavorare, leggere o fare quello che vuoi con una profonda sensazione di freschezza. Grazie alle molteplici configurazioni che offre attraverso l'altezza regolabile, l'orientamento e il movimento delle pale, che consente di selezionare l'angolo di incidenza del flusso d'aria, sentirai il potente flusso di aria fresca ovunque tu sia. Grazie al suo schermo LED puoi regolare la temperatura e la velocità nel modo più semplice e grazie alle sue sei velocità di funzionamento, puoi regolare l'intensità del flusso d'aria a tuo piacimento. Il prezzo è di 74 euro. Prima di passare al prodotto numero 3 iscriviti a prezzo e recensioni per non perdere le migliori offerte del web. In anteprima Numero 3 Al terzo posto troviamo Probrezze. Progettato con un motore DC a bassissima energia, silenzioso per un raffreddamento ad alta velocità, potente ed efficiente dal punto di vista energetico. Questo ventilatore silenzioso a piantana, leader del settore, è dotato di una grande testa a doppia lama da 40 cm per offrire un potente. Raffreddamento perfetto per l'uso in casa, in ufficio e in camera da letto. Offre una maggiore copertura di raffreddamento e una potenza significativamente maggiore rispetto ai ventilatori con una singola lama. Utilizza la modalità di oscillazione di 90 gradi per raffreddare un'ampia area della stanza. Questo ventilatore a piantana con telecomando presenta tre modalità di funzionamento tra cui la modalità normale, naturale e notte e 26 velocità della ventola che vanno da una brezza leggera al raffreddamento ultrapotente della stanza. Il display alle del telecomando sono facili da usare e consentono di avere il controllo completo delle modalità di funzionamento, della velocità e del timer 24 ore incorporato del ventilatore digitale. Regola facilmente l'altezza del ventilatore da 115 cm a 135 cm e ruota. La testa su un angolo verticale di 20 gradi per avere il controllo completo sulla direzione dei 20D, raffreddamento del ventilatore. Il prezzo qui è di 89 euro. Numero 2. Al secondo posto troviamo Branson. Con questo ventilatore respirerete liberamente nonostante il calore e scambierete l'aria nella stanza. Anche di notte, perché il ventilatore premium con motore brushless è piacevolmente silenzioso. Grazie al timer di spegnimento si spegne da solo e in modalità Eco, Autospeed, la velocità di rotazione è regolata in base alla temperatura ambiente. L'angolo di rotazione può essere impostato individualmente nel range di 60, 90 o 120 gradi. Il prezzo è di 99 euro. Numero 1. Al primo posto troviamo Wasner. Questo ventilatore contiene un nebulizzatore d'acqua che crea una nebbia sottilissima capace di rinfrescare senza bagnare. Il telecomando in dotazione permette di azionare il ventilatore da una distanza massima di 10 metri. Il ventilatore è dotato di funzione timer, accensione barra spegnimento, nebulizzatore d'acqua e tre velocità. Per garantire una migliore distribuzione dell'aria è possibile inclinare la testa del ventilatore in alto barra in basso e attivare la funzione di oscillazione barra rotazione automatica. Grazie al rotore a trepale ben progettato, il ventilatore a piantana con raffreddamento ad acqua lavora silenziosamente e produce un flusso dell'aria poco rumoroso. Il prezzo è di 189 euro. E tu quale comprerai? Faccelo sapere con un commento. Trovi tutti i link ad Amazon sotto al video. Lo staff di Prezzo e Recensioni ti ringrazia per la visione.